In un anno in cui gli appassionati di ornitologia riscuotono successo in tutto il mondo, da Birdman a un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza che ha vinto a Venezia, anche il Piemonte Movie conferma la tendenza premiando la metafora del piccione di Miguel Morciano per la sua originalità, brillantezza di messa in scena e coerenza registrica. Innanzitutto chiedo scusa per il mio italiano perché ormai sono due anni e mezzo che sono ritornato di nuovo alla Spagna e quindi se qualche cosina va via chiedo scusa. Niente vorrei ringraziare innanzitutto ai 60 ragazzi che hanno lasciato il cuore per fare questo progetto perché per me come regista è stato davvero emozionante avere una troupe così grossa e così entusiasmata per questo progetto che hanno fatto ovviamente col suo sforzo gratis. Quindi dopo di che mi piacerebbe ringraziare anche Alberto, Andrea, Corrado e Stefano per quella spinta che avevo bisogno in quel momento per iniziare questo progetto, loro sono stato un supporto fondamentale e dopo di che mi piacerebbe ringraziare anche se non ci sono qua perché io ormai abito alla mia famiglia per essere un sostegno fondamentale in questi due anni in cui io sono venuto qua per amore, come il cortometraggio è una comedia romantica, me ne sono andato di nuovo per amore e sono caduto in depressione totale per amore. e quindi loro sono stati apprezzati per arrivare di nuovo su e finire questo cortometraggio che se non ho capito male perché come ho detto sono straniero, penso che proiettano. Sì, sì, proiettiamoci. Corretto io, ringrazio anche l'organizzazione e la giuria per aver conceso il premio. Grazie. Grazie. Bene, suggerivano stagamente, avremo piacere se i premiati in sala volessero venire un attimo qui.